Sia i campi elettrici pulsati che la luce pulsata sono delle tecnologie innovative introdotte nel settore agroalimentare provenenti da altri settori dell'industria tradizionale che ci aiutano ad andare a recuperare, a saltare il contenuto in componenti bioattivi di alimenti andando nel primo caso del PEF a poter utilizzare questa tecnologia per recuperare da scarti o sottoprodotti dell'industria alimentare nel concetto dell'economia circolare, quindi del riutilizzo di materie di scarto per farne qualcosa di importante e di riutilizzabile nella composizione di alimenti per poter poi recuperare queste sostanze di origine naturale che possano essere introdotte nella catena alimentare come ingredienti per incrementare il contenuto di bioattivi, di prodotti che ne hanno già di suo ma che potrebbero essere interessanti dal punto di vista della salute proprio perché ne contengono una quantità maggiore che è stata estratta naturalmente dalle matrici alimentari di provenienza. La luce pulsata invece potrebbe essere utilizzata per addirittura esaltare il contenuto di composti nutraceutici in prodotti freschi, per esempio, andando in qualche modo a sollecitare la risposta allo stress ossidativo attraverso l'applicazione della luce pulsata, la risposta della pianta naturale a uno stress indotto va a incrementare il contenuto di questi componenti bioattivi che sono contenuti nella pianta naturalmente proprio per fare questo, per salvare la pianta da un attacco, per esempio, di insetti o di batteri esterni che potrebbero causarne il decadimento. Noi in questa maniera andiamo ad esaltare il contenuto di questi componenti all'interno di prodotti freschi che possiamo utilizzare allungando la vita del prodotto e allungando il contributo salutistico di prodotti freschi all'alimentazione di tutti i giorni. Il PEF, per esempio, è stato utilizzato fino ad oggi già nelle industrie alimentari, per esempio, per facilitare attraverso una riduzione della resistenza al taglio di patate, per esempio, per andare in qualche maniera ad allungare la vita dell'impianto di taglio di patate. Nel nostro caso, invece, viene utilizzato, per esempio, nel caso del vino o nel caso del pomodoro per incrementare, attraverso il rilascio dall'interno della molecola verso l'esterno, la quantità di prodotto antiossidante aumentandone anche la biodisponibilità, che è il fattore importante. Cioè, in questi discorsi di prodotti neotaceutici non è importante solamente la quantità in termini di contenuto ma è anche l'utilizzabilità, poi, a livello, diciamo, dell'organismo umano, l'utilizzabilità di questi costituenti, di questi componenti per andare in qualche modo ad aiutarci a difenderci dallo stress ossidativo che è causa di una serie di malattie cardiovascolari, piuttosto che carcinomi e quant'altro. Quindi noi stiamo aiutando in qualche modo il nostro prodotto naturale a essere più utilizzabile perché una tecnologia di preparazione ci ha aiutato a rendere più biodisponibile questo prodotto naturalmente presente nei nostri alimenti. Questo è, diciamo, l'essenza. La cosa importante è che queste tecnologie in studio possono essere immediatamente trasferite alla scala industriale. Ci sono degli esempi nella letteratura, ma anche, diciamo, di risultati ottenuti nella scala del laboratorio, ma le abbiamo provate anche già a livello produttivo. Questo vuol dire che siamo andati dal ricerca e laboratorio verso il trasferimento tecnologico già provato per alcune applicazioni importanti con impianti di scala industriale di una certa rilevanza e con la possibilità, andando in qualche modo a ridurre il costo dell'investimento perché si producono e si utilizzano più macchine, a rendere questo tipo di tecnologie disponibili anche per aziende di piccola e media scala che normalmente riescono ad entrare difficilmente al discorso dell'acquisizione di tecnologie innovative al proprio interno, sia per difficoltà di tipo concettuale, ma soprattutto per difficoltà di incremento di investimenti nel processo che normalmente è la parte del costo dell'azienda che diventa rilevante se teniamo conto che i costi importanti nelle aziende alimentari sono i costi delle materie prime e se aggiungiamo molti costi relativi al processo di trasformazione rendiamo i prodotti finali abbastanza fuori mercato. Quindi insomma questo è il fatto che secondo noi ha un'importanza rilevante per quanto riguarda poi il discorso dell'innovazione tecnologica e del trasferimento delle tecnologie nell'ambito aziendale. L'altra possibilità che voglio sottolineare è che queste tecnologie possono essere utilizzate per complementare le attuali catene di produzione quindi vuol dire che sono immediatamente inseribili e trasferibili in impianti già esistenti e questo insomma li rende abbastanza competitive rispetto ai processi tradizionali perché non vanno a stravolgere la linea di produzione ma vanno a essere inseribili senza grandi problemi da un punto di vista sia di ingombro per esempio di spazi, di volumi che nelle aziende oggi è un altro elemento che fa decidere o meno verso l'accettazione di questa introduzione di nuove tecnologie. Grazie 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 Grazie